Creare una fattura con la fatturazione elettronica di Aruba è semplice. Penseremo noi infatti a gestire i passaggi più complessi, a creare i file XML, ai controlli automatici e ad apporre la firma digitale. Tu avrai invece a disposizione un'interfaccia web chiarissima con la quale compilare la tua fattura direttamente online. Hai già un gestionale per creare fatture in formato XML, ma non sai come inviarle? Nessun problema! Fatturazione elettronica di Aruba ti consente di caricare i tuoi file XML massivamente. Selezionandoli e trascinandoli sull'applicazione. E una volta creata o caricate le mie fatture, come faccio ad inviarle? Niente di più semplice! Clicca solamente il pulsante Invia per far sì che le tue fatture seguano il giusto ITER. Saremo noi infatti come intermediari accreditati presso l'Agenzia delle Entrate ad assicurarci il passaggio delle tue fatture dal sistema di interscambio, in linea con la normativa di riferimento. In ogni caso, potrai controllare nel tuo pannello tutte le notifiche in arrivo dall'Agenzia delle Entrate. Per essere sempre aggiornato sullo stato delle tue fatture, vai al prossimo video per saperne di più! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!